Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni risponde alla Francia, dice da loro reazione aggressiva e incomprensibile. Intanto Berlino dice, la Germania, manteniamo gli impegni solo se lo fa anche l'Italia, continueremo ad attenerci al meccanismo di solidarietà nei confronti del paese, che dai paesi che permettono l'approdo di migranti salvati in mare. Questo vale espressamente anche per l'Italia, che ha permesso lo sbarco di tre navi. Andremo avanti nel nostro sostegno fino a quando l'Italia terrà fede alla sua responsabilità per l'accoglienza dei migranti salvati dal mare, dice il portavoce del Ministero dell'Interno Tetesco a Lanza rispondendo a una domanda su se Berlino intenda seguire l'appello di Parigi a non rispettare gli impegni europei sulla solidarietà. E poi aggiunte, siamo disposti ad accogliere fino a 80 migranti. Ma tutti quelli? Caspiterina, mi raccomando, che non siano troppi. Dice, però noi ne prendiamo 80 dell'Ocean Viking nell'ambito di un meccanismo di solidarietà. E la Spagna interviene, dice, mica che mi vogliono mandare qua le navi, in Spagna. Gli sbarchi devono avvenire nel porto più vicino, cioè in Italia ovviamente. La tradizione, adesso questa è una tradizione, un'usanza, un costume. La tradizione vuole che le navi portino i migranti nei porti sicuri più vicini. Li facciamo sbarcare e poi siano ricollocati da lì. Che poi non è vero, non viene ricollocato quasi nessuno. È qualcosa che ha funzionato molto bene. Sì, molto bene perché non sono arrivati i migranti in Spagna. Questo è il molto bene. Lo dice il ministro degli esteri spagnolo in un'intervista al periodico de Spagna sulle richieste italiane, sulla gestione europea degli arrivi nel Mediterraneo. Il modo più normale, dice, e più semplice, secondo la legge del mare, è recarsi al porto sicuro più vicino, cioè in Italia, far sbarcare, trasferire rapidamente e ricollocare quelle persone in diversi paesi. Quanta ipocrisia. Nessuno vuole i ricollocamenti se non qualcuno tipo Francia e Germania in maniera simbolica. Quindi sono tutte parole a vanvera queste. Intanto il presidente della PPE dice salvare è responsabilità cristiana di tutti. Mentre Mattarella sostiene il governo italiano, dice una sfida che si vince solo con la solidarietà dell'Unione Europea. dice proprio la sfida, la risposta alla sfida migratoria avrà successo soltanto se sorretta dai criteri di solidarietà all'interno dell'Unione Europea e di coesione nella risposta esterna e da una politica lungimirante nei confronti della regione africana. Lo dice il presidente della Repubblica, Mattarella, durante una visita in Olanda. Toti, Francia fa morale ma sospende la libera circolazione nell'Unione Europea. È la stessa Francia che ha sospeso unilateralmente il trattato sulla libera circolazione delle persone in Europa. È la Francia che ogni giorno dell'anno respinge oltre il confine di Mentone almeno 80-100 migranti per farli dormire sotto un ponte a 20 miglia in attesa di riprovarci a passare quel confine. Così in un lungo post vi associa il presidente della regione Liguria, Toti, dice dunque se l'Italia chiede che i migranti sbarchino non solo nei porti italiani è disumana se i gendarmi francesi abbandonano sulla frontiera i migranti senza cibo, acqua e cure mediche quella invece è vera solidarietà. Ora a me non piace quando nella Casa Comune Europea si alzano i toni ma c'è davvero un limite a tutto anche al sentirsi superiori e alla doppia. Morale. Eh sì, è proprio così, caro Toti. La Meloni dice la reazione della Francia sul caso migranti sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese che è incomprensibile e ingiustificata. Intanto a Lampedusa ci sono 1437 persone che andrebbero portate in Francia o in Spagna visto che hanno così paura. portate lì in Francia, in Spagna e loro sono così buoni. E così a Lampedusa una struttura che potrebbe tenere 400 persone anzi 389 per la precisione ne ha 1437. Per questa mattina la prefettura di Agrigento ha disposto l'imbarco di 91 persone tra cui 50 minori non accompagnati sul traghetto di linea veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ieri con i due traghetti di linea da Lampedusa sono stati trasferiti 355. intanto vediamo che ci sono altri soccorsi la Francia all'Italia dice i trattati si applicano oltre alla vita del governo come? L'avete appena cancellato? Ma cosa state dicendo? Intanto la Ocean Viking è in una zona militare così il porto è inaccessibile ai media perché i francesi non vogliono il governo francese non vuol far vedere ai francesi e alle televisioni internazionali che stanno scendendo in Francia quindi cercano di tenere tenere tutto nascosto. Mentre interviene anche Calenda e dice l'escalation dell'Eliseo è stonato ed esagerato eh sì la cosa peggiore che potrebbe fare oggi l'opposizione è salutare con entusiasmo il gesto sbagliato della Francia per indebolire la Meloni da ogni punto di vista l'escalation dell'Eliseo appare stonato esagerato esistono ragioni dell'Italia che prescindono dagli schieramenti occorre dunque mentre si denunciano gli errori di piante dosi nella gestione degli sbarchi evitare di correre dietro i francesi che sull'immigrazione non possono impartire lezioni a nessuno e tantomeno cercare di mobilitare l'intera Europa contro di noi così dice intelligentemente il leader di azione Carlo Calenda mentre la sinistra tifa per la Francia eh ma loro voi sapete sono gli anti italiani ecco la Meloni dice le minacce sono ridicole Francia e Germania non rispettano le intese ma questo lo vedremo nel video successivo io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti ricordatevi che c'è anche Tele Italia seconda rete dove trovate video di politica di notizie e di fai da te poi ci sono anche ci sono anche c'è anche l'altro canale in cucina con Carla Carla con la K arrivederci a tutti e grazie